Utilizzare internet, social network di ogni tipo e blog come fruitori di contenuti. Questi sono gli obiettivi della Scuola di Blog, un'iniziativa che si è svolta al liceo classico Monti di Cesena e che ha visto coinvolti circa una quindicina di studenti. A Scuola di Blog da dove nasce questa iniziativa? Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per l'insegnamento, la scuola e ci sarebbe piaciuto trasmettere la nostra esperienza, Gian Piero in campo giornalistico, la mia in campo di scrittura creativa, ai ragazzi che frequentano le scuole superiori. Abbiamo avuto la fortuna che ad accogliere questo nostro progetto ci sia stato il liceo classico e abbiamo portato a termine proprio oggi questa bella esperienza di Scuola di Blog che è durata dieci lezioni in cui una quindicina di ragazzi ci hanno seguito spontaneamente e con tanta tanta attenzione e tanta partecipazione. Sono state lezioni che hanno cercato di coinvolgere i ragazzi che hanno saputo cogliere i nostri spunti in maniera molto originale perché si partiva da una situazione di spiegare alcune tecniche di scrittura adattate ai social network oppure al blog e i ragazzi poi a casa rielaboravano proprio le tematiche affrontate a elezione in degli articoli o dei post originali proprio da pubblicare su Facebook, su Twitter e su tutta la selva di social network che popola ormai le nostre vite.